Il lavoro che insieme con gli amici del posto, non si sa che è meglio che parlo senza niente, però è il seguito di questa parte, con un po' ciò che mi ritrovo, che l'Anima, quindi come dicevo, è un'associazione identitaria, è un lavoro che insieme con gli amici di Papi ha organizzato questo evento. Allora, ringrazio che mi ha presciuto perché effettivamente il documentario è stato ricco di suggestioni, nel mio caso anche a sicurezza ricordi, visto che ho avuto la fortuna di visitare per tanti di questi luoghi, per l'Università del Castello, già in passato, sia la villa, la manna, eccetera, e il documentario non ha fatto altro che arricchire di nuove sensazioni, quelle che già ho avuto la fortuna di provare a suo tempo. Ringrazio anche gli amici del gruppo musicale che hanno ricordato in forma di musica un momento tragico e eroico della nostra storia, un momento che, insomma, va ricordato all'unistante, all'occasione, proprio perché è il momento in cui il Sud si mette alla prova e dimostra ampiamente di non essere affatto il Sud traditore, Fugiasco, il Sud che cambia bandiera, porta cabana, eccetera, eccetera, in cambio di guadagnosti, e invece questo è un mezzogiorno d'Italia il quale sape esistere e morire di fronte a forze, questo è chiaro che basti pensare a un numero dei militari impiegati nelle nostre tecnici durante la fase depressiva del studio da Cagio. A me docca in questo momento fornire, come dire, una lettura. Ci sarebbe grande da dire, ma ovviamente le monoplatiche note da l'incontro è un po' inzattura da questo a interlocutore, quindi questo che io ho fatto in cui mi piacerebbe molto e allungo. E a me docca cercare di proporre una lettura degli eventi del 1799. Su una storia, una storia militana, una politica che riguarda quell'anno, molto meno di me, però dopo l'amico Fernando Piccardi, che è naturalmente il Presidente dell'Istituto dei Ministri Storici delle Sicilie, peraltro autori di un'avalanca di comunicazioni che concedono in periodi del pregattaggio, quindi anni 60-800, e anche questo periodo in cui oggi è possibile occupare. Quindi, Fernando Piccardi parlava soprattutto di questo, io invece mi ritrattengo un po' su quelli che possono essere dei significati che almeno personalmente cerco di vedere in questa vicenda, e che quindi cercano di mostrare come questo sia un anno particolarmente importante, e per la storia del Sud, ma non solo, per la storia europea in generale, essendo timidice di uno scontro di liceo. Quindi farò con voi un piccolo ragionamento, rimanendo sempre, e questo lo dico al nostro calabio, rimanendo sempre disponibile ad intervolti nel caso, nel caso, come dire, l'argomentazione mi porti oltre i limiti stabiliti. E allora, ho avuto la fortuna di vedere che nel numero 2 della FIE, una lista che non di noi conoscono, fondata da Sittioritale, che è un anno, che no, parliamo dei primissimi anni 60, nel numero 2 di quella di vista, già Sittioritale, citata tra le fonti, importanti, per la comprensione del significato del 1789, un libro di Colangelo, di Francesco Colangelo, che poi sarebbe divenuto presidente della giunta di istruzioni, insomma, sostanzialmente, un ministro dell'istruzione, ma negli anni successivi. Allora, era un giovane, un sacerdote, di grande, grandissima dottrina, di grandissima cultura, che qua, un viso saggio storico sulla rivoluzione accaduta in Napoli nel 1789. Che cosa era? Gli eventi, nel momento, come dicevo, lo spiegherà molto meglio di me, in Ferdinand Riccardi, ma, insomma, tra maggio e giugno, sostanzialmente, del 1799, noi abbiamo la cacciata, quindi il re che va via, ecco, il re che va via, in Sicilia, e il rientro a giugno, sostanzialmente, quindi considero questi dati qui, dell'esercito sanferista nella città di Napoli. Ora, al di là del fratto militare, perché è così importante questa città? E questo è tutti questi dati. Perché? Che cosa significa? Assistiamo ad uno scopo di città. Da una parte c'è un ordine tradizionale, interpretare come si può dire, ma che comunque, che comunque, era un ordine in quale si manteneva in una sorta di sintonia con la nostra religione tradizionale che è il 14esimo, si manteneta in quella sintonia, e nel vambito di una visione, come dire, dei rapporti tra trono e l'altare, che in qualche modo aveva molto di tradizione. Con il 1799, noi abbiamo un deciso attacco alla visione tradizionale di Rosso. Abbiamo deciso attacco soprattutto a che cosa? Alla presenza cattolica nella vita associata. E quindi è ovviamente anche nel mondo politico. Quando parlo di vita associata, intendo in generale la vita, la vita anche scientifica, la vita, e questo potrà andare strana, è così, la vita culturale, la vita artistica, eccetera, perché è in questo volto di tempo, tra la fine degli anni, degli anni Ottanta e i primissimi anni dell'Ottocento, che noi abbiamo la attuale, la formazione, l'attuale separazione sempre, tra, ad esempio, il discorso religioso e altri discorsi. Questo accade tanto in campo scientifico, quanto nel campo della teoria politica, dell'Ottocento. Quindi, adesso, cerchiamo di fare qualche esempio. Ovviamente, nel 1799, quando arrivano i francesi, che si proclamano liberatori, ovviamente, del popolo napoletano, in genere, è chiaro che ci sono dei liberazioni, è chiaro che quando organizzano l'Istituto Nazionale della Repubblica napoletana, nominano all'interno di questo istituto nazionale, che doveva essere un po' la grande accademia di cultura della Repubblica napoletana, nominano personalità di sicura, obbedienza di sicuro, sentimento legittimista, no? Tuttura nominano il medico della famiglia reale, il medico delle te, no? Quindi, il potugno, a cui poi è rimasto l'altro uno dei viceri di questa determinata, che so io, il pittore di corte, viene nominato Nicola Ferro, al cattolico di Ferro, addirittura il paesiezzo, Che tutti conosciamo come Dottelino, 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 degli esercizi, sono tutti nominati nell'Istituto Nazionale della Repubblica napoletana, ovviamente insieme ai grandi protagonisti della vicenda rivoluzionaria che se io, Domenico Cinto, scienziato, votano in cuore, signe, eccetera, eccetera, ma ci sono anche questi qui. Allora, si potrebbe dire, ma in fuori questa Repubblica sarà più alla patria che a un'opposizione alla Chiesa, e invece non è esattamente questo, perché? E' vero che queste personalità vengono coinvolte, ma in realtà si cerca di farne addirittura un uso quasi strumentale, insomma, perché la vita propria è che c'è un attacco massivo all'ordine tradizionale. E il primo, il più importante esempio, sul piano verale, diciamo così, c'è la voglia di risarci, di risarci, delle truppe francesi con opere d'arte, no? Questa è una zia che, voglio dire, segna un po' la nostra destina. Ma poi c'è la voglia di risarci di risarci di risarci un distacco rispetto all'ordine tradizionale che si vede già nel momento in cui si adotta il calendario, la pronologia pubblicata, la pronologia di tradizionale. Noi abbiamo sempre contato gli anni a partire dalla nascita del nostro signore. A un certo punto si comincia una donna rena e invece è parlata in costituzione francese. Quindi, siccome si chiamano diversamente i nomi, i mescoli, nomi diversi, eccetera, eccetera. Quindi, già questo è profondamente significativo. È vero che c'è una parte del clero che non si è accaduto per questo. Qualcuno, perché magari abbondantemente massurato di pochi elementi, perché abbondantemente è nutrito di ideali massonici o giacinisti. Qualcun altro semplicemente perché è necessario rispettare il buo ordine politico, ma la gran parte del gioco è stirata su altre manzi, su altri risultati. E allora che cosa accade? Perché è così importante questo anno, questo 1799. Colangelo nella sua disamina che non ha niente di cronatistico, proprio perché è interessata soprattutto a vedermi il significato, quindi non è come Petro Masi che invece è la narrazione, la cronat dell'impresa di Fabrizio Ruffo, questo carbonale straordinariamente capace, Donangelo fa vedere proprio quali siano gli ideali di fondo e come essi siano edersibili dell'ordine tradizionale. Allora, una democrazia che non ha niente della democrazia come dire popolare a cui un cristiano avrebbe potuto pensare è invece una democrazia profondamente nanica chiaramente che so la volontà di confinare la chiesa è insomma la realizzazione tentata e per fortuna al momento non riuscita di realizzare il processo di separazione radicale quindi il confinamento della chiesa rispetto all'ordine all'ordine di un uomo. Ripeto è un periodo che anche nel campo scientifico mostra queste caratteristiche si pensa soltanto che addirittori matematici addirittori matematici si dividono in due schiere proprio perché ci sono quelli i quali sentono con maggiore forza l'esigenza di armonizzare la matematica della scuola ovviamente di Nicola Ferra di armonizzare la matematica della teologia dall'altra parte quelli che invece vogliono un sapere matematico completamente autonico il 1799 da questo punto di vista è un anno che fa la figura del cardinale Ruffo cardinale senza essere mai stato ordinato sacerdote e quindi era anche da Ruffo come ministra la cosa è perfettamente legittima ma era una situazione piuttosto strana ovviamente inconsuenta la figura del cardinale Ruffo invece per parte sua che cosa rappresenta la possibilità effettiva di coniugare una fedeltà alla tradizione una fedeltà autentica alla tradizione con delle istanze di rinnovamento rappresenta anche la volontà proprio sul piano militare di coniugare l'ordine alla disciplina che deve contraddistingere la vita di un esercito anche con la capacità di stringere intanto di rispettare il nemico e su questa base del rispetto nemico di conferirgli dignità e di rispettarne la vita sapendo anche perdonare vediamo questi due aspetti cioè il cardinale Ruffo già nella sua esperienza precedente al servizio del romano pontefice cioè di Pio VI come tesadiene per esempio dello stato pontificio si è già messo in luce per la nera la sua volontà di rinnovare a minus proprio da fondamenta l'ordine politico e sociale pontificio ma comunque rinnovando nel rispetto della tradizione rinnovando nel rispetto della tradizione sono noti i suoi contrasti per esempio con la popolazione dei macellari la quale intendeva invece mantenere delle rendite di leggi oramai anacronistici quindi Ruffo aveva una visione moderna delle cose non era un classista e lo dimostrerà anche negli anni avvenire e inoltre Ruffo da grande capo militare sarà in grado anche di riconoscere il valore dello schieramento e quindi riconoscere l'invità di avversario politico pur ovviamente nel combattimento pur nella lotta allora quando il buon riconoscere l'invità che sarà poi puntualmente sconfessato sconfessato dalla re dalla regina e anzitutto il quale dettò praticamente tutto il comportamento politico all'indomante dell'invità allora addirittura noi poi ci ricordiamo davanti a delle situazioni assurde cioè non è stato mai arrestato in carità però sappiamo oramai per cento che ci ha pensato di arrestare quindi spiego ci ha pensato di arrestare questo è estremamente grave nei confronti di una persona che ha creato un'autentica epopea perché questa della Santa Fe è un'economia perché tutto questo avviene avviene perché da una parte noi abbiamo una delle personalità le quali sono incapaci ovviamente di raccordarsi in termini postivi con l'avversario con il nemico e dall'altra invece una personalità erede della grande traduzione di prudenza della riconazia e del comportamento limitare che è il corso della Chiesa in generale il quale invece capisce immediatamente le cose che si stanno d'altra parte se noi oggi per la gran parte sentiamo parlare in termini drasticamente negativi del comportamento dei dei soprani e naturalmente di tutto il mondo legittimista a proposito della vicenda del 1799 di cui quindi si ricordano le istituzioni di cui San Felice dice che so io Caraccio e le amore la francesca da Pimentel e così via se sentiamo parlare di tutte queste cose in termini drasticamente di gallini tutto questo non è assolutamente responsabilità congiunta e del Nilsson e del sovrano che ancora della regina guarda poi era terrorizzata dall'idea di fare la fine della sorella Maria Antonietta con Maria Antonietta era finita pochi anni prima decattata quindi alcuni insegnamenti fondamentali che si possono come dire ricavare da una lettura pur provvisoria dei cantini del 1799 allora intanto una lettura proprio in termini teologici ripeto come lì a Parigi dico Parigi per dire la Francia se si vanno a fare delle delle statistiche si vede che la gran parte dei molti non in termini percentuali ovviamente è stata patita da Apleo da Apleo ovviamente del fantasma piuttosto che dalla nonità e questo già lo dice lui e è difficile qualcosa del genere così il 1799 nel sud d'Italia quindi nel regno di Napoli è un evento che vede proprio un attacco massivo alla chiesa e alla presenza di la chiesa nel interno della chiesa pubblica che si realizza un antico progetto così dice Polano vero non vero c'è dell'inventato insomma è tutto da discutere ma si parlava da tempo di questo progetto di dei jansenisti di vendicarsi no delle vecchie condanne e di geni e così dire e che ora trova questo vecchio progetto finalmente nella sua realizzazione quindi da una parte questo tentativo che ha una chiara impostazione del tipo geologico la diffusione addirittura di punti nuovi all'interno della compagina pubblica dall'altra parte questa figura ruffo la quale giganteggia del equilibrio e sagacia politica e per arrivento nella risoluzione di queste state di cose a cui i rivoluzionari giacopini ci avevano costretti io mi fermerei a questo punto